Ciao ragazzi sono io Alex in compagnia di Alfredo22154 Lui mi deve inviare la posta quindi vabbè Intanto oggi vi mostro la posta che mi è arrivata da Nova Arcobaleno 99 Allora, l'apriamo C'è, vi faccio vedere perchè l'avevo già aperta Vabbè questo ci sta l'indiettivo Let's mettiamo là Allora ci sperisce Il secondo tre parcobaleno ghost E un jurat meteor Ok, io adesso in questo video vi faccio vedere che Vado a prendere la busta e inso anche rispecare Questa è la busta Le carte sono due Questa è la busta Questa è la busta Ecco, mettete la carta qui Poi scriverò il libro e domani scorsi Grazie per la visione